Puoi trovare, mi potete tranquillamente trovare a Torino per effettuare, per insomma utilizzare i servizi di Seolab oppure comunque capire se andiamo d'accordo perché innanzitutto questo è importante, io cerco di capire sempre se c'è una sinergia, se posso dare valore, se non lo do preferisco dirlo a priori, ci sono tantissime aziende qui semplicemente non riesco a dare valore e quindi preferisco dire a priori. Se però vuoi capire effettivamente se si potrebbe fare qualcosa, se ti potrei portare più traffico, anche più fatturato, puoi trovarmi nella nostra sede che è a Torino e a Corso Massimo vicino a Parco Valentino, quindi una sede, abbiamo insomma una bella villa dove ci sono quattro aziende, quindi possiamo tranquillamente parlare lì, farci una passeggiata nel parco, bere, che adesso ho una Coca Cola oppure un Martini se è durante la sera e insomma capire un attimo insieme se ci sono dei punti comuni o meno. Poi si può anche chiamare con telefono, io cerco di fare tanta cura anche sulla nostra forza commerciale che comunque anche loro sono abbastanza competenti nel modo di rispondere, meno tecnici che io di sicuro ma comunque abbastanza competenti, quindi puoi anche farci una chiamata così noi vediamo a priori se veramente è un caso di stabilire una collaborazione.